Siamo praticamente fuori e praticamente bianco Si vede proprio in niente Un cinquantesimo No, che è un cinquantesimo? Qui in mezzo è un centesimo Passo in automatico a un centesimo Un centesimo, forse potrei scendere anche a di più Un duecento, questo è duecento No, vito cento Duecento sei brutto, sei nero Cento e venticinque Ma il diaframma come stai? Cento, cinque e sei Ma è tutto aperto In te siamo in te a tre e mezzo Tanto che in te si frega da vincere tanto Con tanta profondità Ok, qua siamo a tre e mezzo Cioè a meno che non puoi venire pure dietro a fuoco No, ma anche con cinque stai mi faccio il cazzo Insomma a tre e mezzo Un centesimo Passo a duecentesimo Molto meglio Centosessanta ISO? Centosessanta ISO Centosessanta ISO Dettagli di mani Mani di Villaris Zoom Ah, vedi sta cosa dello zoom Se si intoppa Adesso è una zoomata abbastanza Con il firmware Quello che avevi prima dopo te, no? Ma sei mai impallata tutto il giorno Test di zoomate Alla veloce Sembra che tiena adesso Eh, dipende quanta roba c'hai André Dipende quanta tieni Se fai bush Silver bush E' al buio vero per cazzo Quando è un po' sottesposto E' al buio vero per cazzo Se sto a fare un... Ma era po' che è qua Ma era che tipo questo Guarda che riduro tutto del fuori con tutti i peli Che cazzo del biker Ciao, sono mister bikers Che cazzo devo entrare Caccia il mister Guarda, guarda il culo Inquadri il culo . C'è una finestrina da two stop . Iscidua The Pilot Incidenti The Pilot Incidenti Incidenti di Dai 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 So perché si era incagliata prima Chi fai sto sabato e sto domenica? So perché si era incagliata? So perché si era incagliata? So perché si era incagliata? So subito, non so che vuole Se so per icone non so che dire Icone fanno schifo ma so Grazie a tutti